appassionati di futsal ben ritrovati da Antonio Iozzo dal pala Ercole l'ultima partita di questa seconda giornata del torneo delle regioni in campo Lazio contro Trento sfida valida per la categoria under 19 tutti i sette gol realizzati ieri dal Lazio sono stati firmati dai giocatori della Fuzza Lazio Academy tre gol per Ferretti intanto il gol il gol di Brecci che dopo essere entrato mette subito la firma sul match 1 a 0 Lazio al sesto del primo tempo Ferretti che ripetiamo non è al 100 per cento non è stato rischiato dall'inizio schierato a partita in corso adesso il gol di Bernardini che corre il destro fa 2 a 0 grande azione delle Lazio in mezzo a due Baiocco corre il fisico poi arriva Carmosino 3 a 0 la firma di Carmosino allunga il Lazio grazie al suo numero 3 il Trento che però sbaglia tutto Ferretti la palla del 4 a 0 il poker del Lazio con la sua stella il numero 10 trova il 4 a 0 trova il quarto gol in questo torneo delle regioni si distende il Lazio Baiocco sul secondo palo Mottes e poi il tocco di Vivian che si butta dentro il pallone fa la stessa cosa Vivian eccola la sirena che va a sancire la fine di questo match vittoria nettissima per il Lazio che batte 5 a 0 il Trento e sale a quota 6 punti nel girone C eccoci in compagnia di Paolo Forte tecnico della rappresentativa under 19 del Lazio vittoria per 5 a 0 vittoria netta prima di commentare questa partita ti chiedo una curiosità a 21 secondi dal termine il time out cosa hai voluto dire ai ragazzi con il risultato già acquisito con la vittoria già in tasca allora innanzitutto buonasera a tutti avevo chiesto al time out circa due minuti prima poi sono stati bravi avversari già hanno fatto prende palla però l'unica cosa che ho detto è evitare ammunizioni magari entrata così che non serviva in quel momento magari prendere un giallo che poi ci fa danno nel seguire passiamo al commento di questa partita il risultato parla chiaro quali sono le sensazioni cose buone e cose negative di questa partita diciamo nella partita di oggi cose buone negative ne ho viste poche tranne insomma magari ecco qualche falletto che si poteva evitare però poi subentro pure il fattore emotivo stai facendo anche tu degli esperimenti stai valutando la tua rosa stai gestendo tutti i ragazzi in maniera esemplare sì diciamo che sto gestendo i ragazzi per capire anche poi a livello emotivo anche per qualcuno far rompere il ghiaccio no perché magari la prima esperienza la prima voglia la prima la prima situazione e quindi gestire tutti i ragazzi è importante poi Gianluca Ferretti viene da un infortunio che lui dice che si porta dalla finale di playoff portiere cambiato perché con i portieri già avevamo avevo previsto prima questa situazione proprio perché per non bocciare nessuno e non promuovere nessuno quindi devono stare sempre là sul pezzo per poter dire in futuro chi merita di essere il portiere poi ci sono i portieri. Ruolo determinante quello del portiere ruolo determinante per una squadra che lo scorso anno ha vinto il trecolore dopo tredici anni di attese che quest'anno cercherà in tutti i modi di riconfermarsi. Sì il ruolo del portiere è un ruolo purtroppo secondo me che è l'ultimo baluardo del campo che tutti stanno là magari succede una disgrazia a lui tutti la vedono noi difendiamo il tricolore vinto da Salvatore e lo difendiamo con sudore voglia con tutte le caratteristiche che possiamo mettere in mezzo al campo non escludo poi il lavoro importante che fa mio figlio sembra che uno l'ha portato a fare la vacanza ma assolutamente no lui fa un lavoro importante sta a contatto con i ragazzi sente gli umori perché gestisce con lui quindi con me magari sono un po' più timorosi no vedono una persona un po' più adulta matura e magari si convidano poco invece con lui riusciamo proprio a entrare nel nella mentalità dei ragazzi perché collabora molto con loro. Grazie mille a Paolo Forte per oggi è davvero tutto un grazie anche a Vincenzo Davino in regia e un saluto da Antonio Giozzo.